è una ragazza veloce no? è una ragazza veloce su a Faluniana cosa è meglio di quello che gestisce diciamo le piste da Faluniana capita a me coccolo andiamo in Beijing state registrando vai baby va bene vai 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 va vai vai com'è gin tonic di ieri si sente? i gb grande ritorno facciamo un po qui stai su stai su andare giù stai su uuuuuh su sopra convinto convinto su sopra convinto bravo tu giù dritto via rupe burbe fai cercheri un po' occhio anche qui stavi sopra anche qui guardalo che stile guardalo che stile tutto a destra su alto non fa la curva in fondo tutto a destra su alto vai lì taglia via oh ciò che c'è in massi guardalo che stile deve andare da tutte le parti l'importante che non vai con lei e dopo mi hai mandato dritto a me piano piano bravo perfetto sapete se fai se pigli un po' la lingosta siete fermi di lì proprio avanti vai via via guardalo che c'è un po' la cosa ti ho preso proprio dritto andiamo per tenere un'altra voce pianta secondo me è stato tutto tutto molto molto bello è stata un'esperienza produttiva senza dubbio hai visto un terreno diverso un terreno diverso, quella volta i posti erano bellissimi la situazione mi è peggiore tantissimo perchè comunque non c'era smosso c'era tutta pietra, la torna è un modo tecnico ma se potevo far scorrere la vigi bene a me è servito tanto come allenamento come capito mi guardavo a vista anche se ancora sbagli e devi da retta mi sono divertito tantissimo quindi hai fatto bene a venire dai si, benissimo ma noi quando fanno questi trasferti ci devi ricordare che noi non andiamo su postaggi ma non andiamo fuori tranne vi vieno e poi alla fine non andiamo fuori non andiamo fuori uuuuuh uuuuuh uuuuh 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 i obano vele pericolosissimi noi troppi rami troppi è pericolosissima bravo Rossi te lo dici dove c'è il drop? si che è il drop? drop niente è un insalatona che nasce vai 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 che sorpassa trova le linee sorpassa due rami due rami ho capito qual è il drop no io non lo faccio passo di sotto manco in gara l'ho fatto e verso la fine e no grazie non è colpa mia ci sta un trenino qui no sono passato lì quando si prende dopo ci vuole un attimo per elaborarlo si vai siamo tutti non è che sto in gran forma ma questa scorre questa è una bomba la discesa manco lo accorgete che è? il papetto? il papetto ha girato e andato in macchina perché? perché è finito l'acqua in grambi mi vado il stomaco mi fanno le gambe è su quella salita cazzo 40 cagliari le cazzate che faccio le tengo tenute le cazzate che faccio le tengo tenute destra 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 è una bomba è una bomba è una bomba eh vai vai la morte la morte è una bomba non è una bomba non è una bomba è una bomba è un po' Grazie.